L'incidente nel pomeriggio di venerdì 7 giugno intorno alle 18 sulla provinciale 565 Piedemontana all'altezza di Bairo. Convolta una Fiat Bravo con a bordo due giovani e una Lancia Ypsilon condotta da una ragazza. Secondo una prima ricostruzione pare che la Bravo fosse ferma in attesa di poter svoltare verso la birreria quando è sopraggiunta la Ypsilon che non è riuscita a evitare l'impatto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito sul posto ai carabinieri della compagnia di Brea. Fortunatamente nessuno è rimasto a evitare l'impatto.